Bella a tutti burloni sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video della vanilla Ragazzi come potete notare della durata è davvero lungo Ho fatto un episodio con Marco ed è venuto boh così, bello Abbiamo voluto lasciarlo al nature, naturale, uncut, quasi tutto uncut ragazzi Abbiamo tirato davvero poco insomma durava sui 55 minuti, ho tagliato proprio il minimo indispensabile Spero che vi possa piacere ogni tanto secondo me ci sta Quindi niente provate a supportare con un like, lasciate tanti 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 like E anche se c'è il bug dei like provate lo stesso a lasciarlo Ora vi lascio all'intro, fatemi sapere anche se la nuova miniatura vi piace E nulla, ditemi se volete altri video del genere, ciao Bella a tutti burloni sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video della vanilla Oggi sono, non sono da solo, sono come di Marco, ciao Marco Non è vero, ciao, mi sto andando, vado a rompere l'uovo Perché? No, per favore non farlo, che sennò poi non so dove va, per favore no No, oddio Ciao ragazzi Ragazzi vi avevate chiesto in tantissimi di riportare qualcuno nella vanilla Ho detto, perché non portare il buon Marco, perché Marco è Marco Eh, ma sono io Sono io Entra ragazzi, vi chiedo una cosa, superiamo i 7000 mi piace Se volete qualcuno nella vanilla e consigliatemi chi volete Magari possiamo portare il nuovo Marco, Tierra, Eren Non lo so, trovate i link in descrizione della mia maglia tanomalo E niente Stavo per dire un'altra cosa che Marco ha già capito, però non la dirò Mi scusi lei, ma lui è Ruggero Ciao Ruggero Guarda che mi sputa, guarda Sputa, scemo Oggi ragazzi farei un po' di un episodio ad cazzo, un po' Perché, allora Io devo prendere assolutamente delle Blaze Powder Per il semplice fatto che dobbiamo andare nel land Scusate, non nel land Dobbiamo andare a combattere il Wither E abbiamo bisogno delle pozioni di strength E abbiamo bisogno di un sacco di Blaze Powder Quindi, ho detto Ma ecco, facciamo un po' di un episodio di superazione Sì, andiamo Perché qua non so se avreste accorti Ma ci siamo ancora dimenticati di far tutto No, l'abbiamo fatto tutto rosso invece Ok, no, stavo scherzando Ciao È bella Ciao Lo so che è bella, è mia Però è più bella la mia camera Sì, va bene Mi è passata anche dalla vanilla di Marco, va bene Allora Mi sarà bugato l'inventare Ho detto, non c'è più cazzo Sì, quello era, tranquillo Chi può essere stato a farlo Volevo muoverla a leva Chi può essere, secondo te, chi è stato a mettere un Eren Allora, in una... Scala da una Eren Da un calcolo ad Eren a Tierless Secondo me, Eren Dove sei Marco? Io sono davanti al portale, fratello perso Entro dove c'è le luci Dove c'è le luci? Oddio, ma cos'è sto passaggio? Dove sei Marco? Dove stai andando? Sto seguendo le luci No, Marco, non è lì Non è lì, ma... Ho capito C'è una torcia qui e ce ne sono 17 qua In quale dovresti andare, secondo te? A parte che dobbiamo anche rifare una stanzina per il nero Dobbiamo assolutamente farla La facciamo assieme, dai Se arriviamo a 4 like la facciamo assieme A 4 Dobbiamo arrivare a 10.000 per farla assieme Eh no, ma appunto, frate, se li superiamo non la facciamo assieme Ok, vai Vieni, dobbiamo... Oh, qua c'è un delirio Che è? Oddio Rega, buongiorno Io c'ho un po' il nero fatto opacco Infatti mi è sempre dispiaciuto Ti sei rubato un po' di cibo dalle mie ceste? Ovviamente, guarda qua quanto cibo c'ho Cioè Perché ho preso il coso dei polli che ne avevo contati? Perché a me c'è solo il pollo Ma ne avevo 25 contati Decido io, è la mia vanilla, decido io Sì, va bene Andiamo a farmare un po' di blisva Perché magari troviamo anche qualche Qualche weeder Ammazziamo Magari ci troppa pure la testa Io rido tantissimo È un grande Ma ti ricordi quando avevo fatto le pesce assieme da me? Sì, è uscito il primo colpo Sì, sì, certo Ma lo ricordo benissimo, Marco Marci, comunque mi spieghi il giorno Quando rifarei questa stradina qua di merda Io non ci passo sopra quella cosa di Cobb Sono fatta a me E ma io sono affezionato E calcolo, l'avevi fatto a te Questa è abbastanza cattiva come cosa Eh, quanti, quanti Quanti, quanti Abbiamo looting, raga Abbiamo looting Ok Stai arrivando io Vediamo quanto la bomba ha dato Allora, questo che dobbiamo arcarlo Bomber, sono dietro di te Se tu li archi e poi li ammazzi Se la posso Non c'ho l'arco, frate Ho già se Questo Occhio, frate, scappa Uè, ghasht, allora, guarda Oh, lì ci sono degli schietti Vado a killarli perché non mi piace Guarda che ammazza subito il ghasht Boom Ora riesco a ammazzerlo così Ma muore così Guarda, guarda Boom Ciao, occhio Ciao a tutti Merdoni Un'arcata enorme, oserei dire O lì c'è un blaze, frate Io c'ho un po' di torce Me ne sono fatte tre stack Ho sbagliato Non ne metto troppe perché poi non spawnano bene i wither I wither scheletri Vorrei andare a casa con Non dico uno stack di blaze road Però ho Almeno una terrentina Cos'almeno sono bella a posto E guarda, lì ci sono già due wither zomi Andiamo, andiamo Mi danno la testa No, frate, fammi andare a me Fammi andare a me Io sono quello sculato No, tu fai il parkour Ti ha stai male con la testa Il parkour fa male nella vanilla No Vediamo se No, non me l'hanno droppata Lasciarlo Prese Due blaze road Bomber Come ti permetti Perché c'ho un pigman che mi viene addosso Ho paura Pigman Vattene Pigman Oh, guarda che l'alato c'è Mi sa' uno spoiler Pigman Oh, ma c'è un botto di quarzo Che sai che vado a prenderlo? C'ho il biscuicone con sconfortuna Dovrei avere pure Sì, c'ho fortuna 3 Quindi vado a prendermene un pochino Ciao, mamma mia Ciao, mamma mia Oh, vado a citare un po' di blaze intanto Sì, intanto ti ammazzi i blaze Io intanto prendo un po' di quarzo Questo è un po' un episodio di shawl Un po' un episodio di esplorazione Un po' tutto Se avete ragazzi Volevo chiedervi una cosa Ma se ti può portarsi la vanilla Tre volte a settimana Come giorno extra Magari, non so La domenica O il lunedì O cambiamo un po' i giorni Anche se i giorni non vorrei Tu approverei Tu approveresti Però avrebbero due giorni di filo Quanto quarzo c'ho? Quanto? A parte che sai che Il quarzo l'ho finito tutto per un progetto E non ne ho più? Zero Aia, male male Però oggi è 58 pezzi Tra il piccone con fortuna Ne ha tanto, lo sai? Mamma mia Un grande margine Devo fare anche sai che cosa? La farm di netherworld Ebbè io ce l'ho Io ce l'ho aggressiva Ma più che altro Ma sai quanto te ne fa? Ma c'è tantissima Sì, sì, lo so Tantissima, tantissima Volevo provare a farla semi-automatica Ho visto un tutorial E' molto carino da fare Però a buon meno Semi-automatica Che figa Semi-oh c'è anche glowstone qua Che ho peraltro finito la glowstone Questa non me la dà Ma dove c'è andato? Non dici no Ah, in fondo Ti vedo, ti vedo Con silk touch Perché non me ne dà Con silk touch Non me ne funziona Boom Quanta roba Che bello Ma c'è tanta roba bellosa qua Che mamma mia A primo da te bombe No, no, tu prendi blaze Ma non ce ne sono più frate Ma spawneranno prima o poi No, non spawneranno Perché non mi vogliono E allora ti duvo un po' di quarzo No No, c'ho un piccone con silk touch È vero Vabbè, prendilo Valle Volevo essere più sculato di te A parte ragazzi che non so Ah, tu prendi la glowstone allora La glowstone andai a prendere quel silk touch Riesci? Arrivo Sì Allora, ti lascio prendere la te Io intanto ando a prendere quel quarzo che c'è qua Ovviamente ragazzi gli ho sdoppiato i miei oggetti Perché non si poteva fare Chissà Io non potevo mettermi a A rifare con gli incantamenti Se no, ciao Come ho fatto a tutti Ho sempre dato i miei oggetti base Quelli che avevo Ovviamente non gli ho dato quello con fortuna e tutto Però vabbè ci sta Qui c'è un botto di quarzo, sai? Davvero tantissimo Guarda quanto ce n'è Sai perché c'è un botto di quarzo? Perché sei un grande Perché sei un grande? È un grande, bombe Sai quanti staccò di quarzo esattamente, di blocchi? È? 34 Intanto io c'ho 12 bliss powder Ok, io non sei tipo C'è un grande Lo so, me l'hai letto tre volte che sono un grande Lo so Lo so Ah, comunque nel mentre guarderanno sto video Sarò tornato a casa da un bel viaggetto Credo se tutto va bene Come se tutto va bene? No, se io parto ovviamente Quello intendo Ok, ti ho fatto la scaletta Ok Bumber Aspetta Oh, quanto quarzo c'ho lì sotto? Looting 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 Se io Quali ti me la dati? Uno Lì sotto c'è un botto di C'è un Wider Skeletor che mi ha colpito Guarda che lì sotto C'è un botto di Gloss Direi prendila Quasi almeno facciamo Facciamo le cose Quanta Quartz Quanta Quartz Quanta Quartz Cioè considero il mio italiano No Marco Tu devi prendere tutta sta Gloss Devi prendere tutta Arrivo, arrivo, arrivo Dove sei? Sei qua giù? Credo Dovresti essere Ok Forse Ciao Ciao Bombero Io mi prendo anche un foto di Gua Un foto di? Vieni qua a vedere quanto scavo veloce la mia pala Mamma mia, vediamo Guarda Caricami per favore Sei pronto? Vai Guarda Neanche in creativa Eh no In creativa non vai così veloce Eh no Tante volte mi dite Marcia ma per fare in fretta vai in creativa Affidatevi che i miei picconi e le mie cose non sono comodi per la creativa Esatto Comunque sto Per comodità non ci vai Per comodità non vado in creativa Vediamo quando si riesca a fare un paio di stack di soul sand Perché ho un progetto ragazzi in mente E mi serviva veramente tantissima soul Ma tantissima Ho sperato un leggendario Ah no Sai che lo so per dire io frate Sto per dire ho sperato un leggendario Ti siamo rimasti troppo sotto Siamo sotto Sì ragazzi sulla pixel ormai Ti ho rovinato la vita Sì abbastanza Allora Comunque Qua sopra c'è altro Ho tipo 40 pezzi di glowstone Quindi credo che basti No frate Sì prendi tutto 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 devi prendere Oh ma come ti permetti Come ti permetti Ma come ti permetti Ma come ti permetti Sai che magari lo lascio pure sciallo Bello uncut Madonna che belli gli uncut Raga ogni tanto mi chiedete Marci perché non lascio la vanilla uncut Marco rispondi te Perché fa stifo No dai Adesso magari più di spazio ci sta Ma tipo la vanilla normale Costruzione uncut Spiega tu cosa verrebbe fuori Spiega Che è una roba tipo da Allora calcola che io per costruire le mie cose Marci sai che ci metto tanto Però Magari quando stai pensando Tipo stai lì tre minuti Nel silenzio più totale A costruire E provare queste robe Quindi se la fai uncut Carichi come minimo 50 minuti Di cui 40 di silenzio E 30 Io una volta ho provato A rivedere uno dei miei vecchi Perché ai tempi ragazzi Nel 2012 Si caricavano praticamente solo uncut Esatto Non esisteva tagliare i video Ma io già li tagliavo Ma tagliavo in maniera diversa Non so tipo Facevo delle clip Poi quando dovevo tipo Costruire stoppavo la registrazione Quindi quello era il mio taglio Insomma Non tagliavo direttamente Però tagliavo Io adesso non riuscirei a vedere Un mio video Della vanilla Magari uno di esplorazione Così ci può stare Perché è diverso Parliamo Non sono lì a pensare Cosa devo fare Ma un video Di costruzione Uncut Non ce lo vedrei proprio No è impossibile Poi se volete ci proviamo Facciamo due ore di episodio A voi piace Voi sarete contenti Perché voi siete contenti È peggio di una live Perché magari in live Leggi i commenti Delle altre persone Sì è vero È vero È vero sta cosa Invece Non essendo in live Non puoi fare niente Guardi il telefono Ma io C'è stato un episodio In cui ho dimenticato Di tagliare un pezzettino Tipo è tutto tagliato Il video Ma a un certo punto Mi si vede me Con il telefono in mano È un grado È un grado È un grado Un po' ti ricordi Quando tipo Tu avevi fatto una Eggworks Che ti hai rialzato Ti hai rimutato Ti hai riandato Sì Sì ma il bello Il bello è che Il bello è che tu dici Era un video uncut No L'avevo pure tagliato Era di ventina Ti faccio Marci ma non avevi Il tempo di tosterare Almeno la parte Che ti alzi Te ne fai Potevi toglierla Ma il fatto è che Tu dici Ma che lo fai In un video Che già carichi uncut Ci sta No Non ieri non ho fatto uncut Però non ti ho tagliato Mi spiace Non mi andava Di caricare Una cubo di 48 minuti Una Egg di 1.3 Ci sta Ci sta Ok Allora io sono messo Anche discretamente bene A livello di tutto Adesso andiamo a prendere L'avevo Che ha provato la morte Ma qua c'è un ghast così C'è un ghast lì Piccolino Ciao Ma perché c'è un ghast qua Come ha fatto a spawnare Ciao mamma Io ti ammazzo con la spada Occhio Ghastier Grande bombe La lacrima di tearless Ma come hai fatto a spawnare qua Non lo voglio sapere Davvero Credimi Che bug Che bug Peraltro Se trovassimo un enderper Adesso magari Torniamo un attimo a casa Se troviamo un enderper Sai cosa possiamo fare Bomber Sai cosa possiamo fare Dimmi tutto Caricami Prima andare a buggare E sopra E' vero Che figo Io sono capace Ma mica l'avevano tolto No lo devi buggare Con una scala e un enderper Vuoi che lo facciamo Bomber Dai facciamolo Facciamo un episodio lungo Un episodio di mezz'ora Dai su Aggressivo Allora devo ricordarmi Da dove si torna a casa Non mi ricordo sinceramente Di qua Aspetta Aspetta Io quando vedo il quarzo Muoio Devo prenderlo per forza Io mi carico Oppure quando vedi Magma block Tu non puoi capire Quanti stack avevo preso La prima volta 12 Io Sai che io il magma block E' il mio blocco preferito E' anche il mio Quindi puoi capire Allora Abbiamo trovato la fortezza La fortezza Se non erro Se non erro Io mi ricordo la strada Per tornare Anch'io no Eh guarda L'abbiamo già trovata E' qua Poi bisogna salire Ed è fatta Esatto Sì saliamo da qua Saliamo da qua Tanto posso usare Direi Boh queste cose qua Usiamo un po' di No la sol Se non voglio tenerla Uso la netherrack Sali Sali Amico Sali Sali Amico Vero che non ci sono sorpresi Sali Sali Dao dao Ciao 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 No raga dove te guardavi La pixel di Marco Uscita ieri Quella che abbiamo fatto La lotta insomma Perché io impazzisco Cominciò di dire Ciao 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 core Dove dobbiamo andare Dove dobbiamo andare In fondo di qua Però c'è un Un coso qua Guarda c'è un 3 addirittura Non ne ho mai visti 3 insieme Lo sai Vai magari ti droppano la testa Se mi droppa la testa Io Sbou 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 Si ma è Sbou Boh Che poi Ok Io avevo un amico Che aveva la r mosca Ma non l'hai già la r mosca Quella proprio pesante Ed era un mio amico Che praticamente Quando parlava alla prof Questo mi ricordo Raccontaci La prima volta delle superiori Vabbè insomma Si metteva a ridere Ok No alle superiori Le prime superiori Vabbè insomma Diciamo che X E c'era la prof Che aveva la Y moscia La Y Come fai ad avere la Y moscia Vabbè insomma Stavo dicendo che comunque Questa è la Y moscia E la prof non riusciva a sentire La prof praticamente odiava Secondo me quelli con la Y moscia Io ogni volta che ti smuffo Faccivo finta che Faccivo finta che si chiama Barbaro sto qua Come ti chiami? Barbaro Che poi a me non Io ho un sacco di amici con la Y moscia Ma non mi dava fastidio Cioè alla fine Ma sicuramente anche tra voi fan Ci sarà qualcuno di la Y moscia Infatti scriveteci Nei commenti Se ce l'avete pesante Di livello 1 Livello 2 Livello 3 Si ci sta Perché puoi farla in chanta Ma sai che non so se ho le Ender per lì No frate Tu puoi andare nel Ender Quando vuoi Io non sono mai stato nel Ender Lo sai Mai in tutta la mia vita Mai Neanche nella mia serie No mai E allora andiamo pure nel Ender Episodio 1 Madonna che top Raga Speciale 1 ora sulla vanilla Proprio che dici mamma mia Mamma mia così Uncut Uncut Si 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 raga Questa è la scintiera Voglio lasciarvi tutte le disavventure Allora io ti dico subito Che ero uscito con 34 livelli Mi ho 39 Mamma mia io ce ne ho 3 Se ne teni conto Ok Allora 5 Vuoi andare davvero nel Ender Si dai non ci sono mai stato Ok ti faccio vedere pure il End City Allora però abbiamo bisogno di Ender Però qualcuno sono sicuro di No ecco qua ne ho 5 infatti 5 bastano per far quello che vorrei fare Però nel Nether Però siccome vuole andare nel Ender Lui Andiamo nel Ender Questa faccio vedere una cosa ti faccio vedere Vai sto salendo Guardami Dove sei? Allora lasciamola Sembra di Tearless Ok Facciamo così Io lascio un attimo la chest Dove era quella di Ok qua 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 Mettiamo le cose qua due secondi raga Perché qua saranno le cose che devo È un progetto segreto Non posso Non posso svelarvi ancora nulla Nessuno sa niente Nessuno sa nulla Nessuno deve sapere niente Beh ho uno stack 48 di Di blocchi di quarto Direi che non è così malaccio Non è malaccio No assolutamente no Però Però Le 24 panini bastano 5 Ender Direi che bastano Magari Prova a vedere nel chest qua sopra Se c'è qualcosa Perché può essere che magari Qualche Ender Per cui ce l'ho messa Aspetta Ti lascio le Blaze Powder Da qualche parte Dove te le lascio? Damme la me Buttami nel inventario Vieni Buttami nell'inventario Dove che sono? In più ti butto Ah hai fatto proprio le Blaze Powder Ok Le metto sotto Vieni andiamo 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 Questo è il di blocchi che piacciono a te Yes Mamma io li amo Anch'io Andiamo troppo Poi fanno il contrasto con il Dark Hawk Il mio leno preferito Che è la cosa devastante Andiamo Andiamo nel Land Andiamo Andiamo Bombero Non è notte vero? È notte Grazie Ci saranno un botto di mob Quindi occhio Beh Shalaman Sai che io sono migliore Allora tieni qua Uno Due Tre Ne puoi usare Ma possiamo usarle anche tutte Possiamo usarle anche tutte Per andare Tanto poi gli Endermen Lì li possiamo uccidere Per andare nel Land City Ma è lontano Da qua il portale? No Però sì No però sì Devi saperlo Allora guarda me Come uso le Ender Pearl Mi stai guardando? Vai Ti sto luccando Ti porta troppo vicino le Ender Pearl Non va così lontano Non guardi tra i te Ok Vicino a casa a me C'è un botto di Flower Forest Te lo dico Pone R-Quasa? Eh sì Io ti faccio Faccio uno spoiler ai fan La vedete quella specie di casa lì? Quale? Quella che c'è Quella cosa di Viola? Io vi dico solo Che è di uno YouTuber Che stiamo preparando l'episodio Potrebbe potenzialmente Essere di qualcuno Che è in questa stanza Esatto Non si sa chi sia Boh Chissà Boh Cioè ma tu Ma quella lì Viola Ma è uno che non è ancora dato Nella sua serie Non lo so guarda Non lo so Ah ok Ci sei? Ci sono Sei un grande Sei un grande Lo so anche Boom Ender per sopra Non arriverà mai dove voglio andare Ne uso un'altra Dove sei te? Ma dove sei? Sono sopra di te Sono sopra di te Perché c'è un Endermite? Dove? E si fanno un Endermite lì What the fuck? Non so di te comunque credo Guarda che cadi di qua Ciao 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 No comunque sono stato relativamente fortunato Non ce l'ho così lontano Sai No ma infatti Io perché seguendo la tua serie Più o meno mi ricordavo dove fosse Però non pensavo fosse così vicino Si sotto taglio il pezzo in cui vado Perché sto zitto È la prima volta che vedete tutto il tragitto per Land Che top Che pot Che snop Che bello Sto video ci metterà gli anni a renderizzare Stavo pensando adesso È bellissimo Raga full HD 60 fps Madonna che top Non esiste Raga c'è il deep potion lì Raga chi ogre Oh oh io ho chi ogre Ho pure l'ughe di notte Dobbiamo fare tipo qualcosa inerente alla pixelmon Ci sta Io ovviamente nel mio progettino Per fare una roba dei pokemon Io volevo fare tipo un toto Dai le basta Ci sta Per ricordartelo Per ricordarmi Non remember Allora ci buttiamo lì Oppure facciamo sciallamente da qua No facciamo sciallamente da qua Vieni Come vuoi frate Boom Hai fatto tutto quanto il passaggio Qui dovrei avere anche Che ho 21 diamanti Addirittro C'ho la spada con il routine qua Mi sa No fire aspect questa qua Fammi prendere i diamanti Che me li porto dietro dopo Che mi servivano i diamanti Qui c'è qualcosa di interessante Abbiamo un bene Vartropods 4 Niente di che Ci sono due smeraldi Sai che mi sono molto Sono molto carico 12 smeraldi Li ho presi Andiamo Scendi Siamo ragazzi Ad un punto Di non ritorno Nel senso che Adesso andiamo nel land E niente Guarda se faccio così Tu ti fermi No Perché sei passato Devo scendere Oh come ti permetti Ti butto su lo sai Ti sto buttando su Sì è vero Che figata Oh la Che figo Boom Come funziona Devo lanciarmi Boom Sì Oh mio dio Qui voglio fare la casetta figa Che voglio fare Ci sta Ci sta un foto E ti dirò Li è c'è la end city Se vuoi possiamo andare anche Nella end city A vedere Però prima farmiamo Un po' di Un po' di enderpearl C'è un enderman Che ti insegue Volendo possiamo fare Tipo una farm Di enderman Automatica ci sarebbe No la farm la faccio Però più in là Nel centodiecesimo Dieci decimo episodio Quanti under per la Io zero Le pesette le mie Eh le pesette le mie Periods No ma io ne sto uccidendo un po' Vai ucciso Quante me le date Me le date tre Uno me le date tre Ce ne sono altre Boom Lo sai che si può Volendo fare una Semi farm Così Ti faccio vedere Allora Guarda Prendo un pochino Di blocchi Sì ti metti In un blocco Di altezza 2 Ti metti Gli spacchi Guarda ti faccio vedere Tu sei così Adesso fai una cosa Del genere Mi metto tipo In mezzo un po' Agli enderman Faccio una cosa Del genere Funzionava un tempo Ti dico solo questo Sì so come funziona Ti metti un blocco In testa Adesso lo facciamo serio Così Poi scendo di uno E faccio così E li guardo Merde 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 Ok Tu hai provato Se hai metto a frecciare Un enderman Lo so che l'enderman Scapa Però almeno Gli ho tirato La sua attenzione Uè bomberissimi Io vi sto guardando Guarda che E io te li fotto E io te li fotto E io te li fotto E mio No Quanti enderper l'hai 12 Tu non mi hai mai visto Lensity Mi vuoi dire Mai visto Mai È la mia prima volta Andiamo a Lensity Però prima di tutto Facciamo una cosa Cososa Ok Facciamo una cosa Cososa Prendiamo Prendiamo Io voglio farci Proprio una città Una città nel land Voglio farci Questo è un progetto segreto Che vabbè Ormai ero spoilerato Ormai ero spoilerato Perché è un cazzo Sto video Quindi Ok Spazziamo un po' di gente Quanti ne hai te Uno stack Uno stack e tre Uno stack e tre Quindi ne hai 19 19 Basta Andiamo Direi che possiamo andare Qui nel land City Allora guarda Sai come si fa Lancio l'ander per lì dentro Vai Boom Ecco qua i choice fruit Questi non li avevi mai visti te Sta laggando un attimino Quindi Aspetta un attimo No non sta laggando No a me sta laggando Ah ok Ci sei Marchita Ci sono ci sono ci sono Ti faccio vedere una cosa fighissima Guarda Vai Guarda Boom Cade tutto Boom e viene giù tutto Lo so ma io non posso farli Perché non ci sono ancora andato Allora io ti dico una cosa Se vuoi possiamo andare a vedere Una end city Vai Ci sta dai Allora mettiamo Piazziamo le torce per ricordarci Dove perché mi dimentico sempre di farlo Allora No ma frate Tanto Con la giornata dell'1.11 Hanno messo i void I portali un po' qua e là Quindi non c'è bisogno che tu metti le torce Per ricordarti la strada Eh lo so bomber Però io l'ho generato in 1.10 E Ma dovrebbe esserci lo stesso Sì ma tu non sai quanto io ho esplorato Davvero Ok Io ho esplorato davvero tanto Potevamo buttare l'itra E' vero Potevamo portare l'itra Sì te va a culo perché era lo spawn 1.11 Anche se Avevo pensato di cancellare la cartella end E ricrearlo Perché tanto non avevo fatto niente di chi alla fine io In questo end Beh Riuccidevi il drago nel caso Sì riuccidevo il drago Nulla di chi alla fine Dimmi se ci sei Sì sono dietro di te Che bella cavolo Allora dobbiamo un po' di verde purpur Bello che bello Boom Poi dobbiamo andare nel neder E poi possiamo concludere l'ip Vabbè dire di dove possiamo andare subito Tanto qua Non c'è nulla da vedere Volevo solo fartela vedere l'end city A me piace un effetto Che bello Io lo amo ma non sono mai stato nella mia serie Quindi ti ho detto Guarda quanto spacca veloce Minchia No c'è uno shulker che ti sto sparando Quindi hai levitation No non l'ho ancora preso È dietro lì Occhio Io sto prendendo i blocchi di end Cosi Oh ti ho preso uno shulker shell Per parte del shulker Ah sì prendi un po' di shulker shell Sai vado un po' a chilari Sì Vado un po' A uccidere Vai che a me servirebbero Però non li ho più presi Questo che efficienza c'ha Cioè ha efficienza 4 Io avevo un'efficienza 5 una volta Non so perché non ce l'ho più Esiste efficienza 5 Non mi ricordo più No Efficienza 4 Sì 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 Ho avuto un attimo Un lapsus È sharpness 5 Mannaggia 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 Allora Con questi blocchi qua Io dovevo già venire a prenderli Però siccome sono qua Li prendo Non ce ne sono di shulker box Sopra Scusami Di shulker intendi Sì di shulker Non ci sono proprio No li ho uccisi tutti probabilmente Quante ne hai di shulker box No di shulker shell una Sì vado là Allora facciamo così Facciamo così raga Facciamo così Qua dovrebbe essere Facciamo un shulker Da qualche parte Forse qua Abbiamo uccisi tutti davvero eh Eh sì te l'ho detto Ma anche su sei andato Ok qua non siamo ancora andati Mi sa eh Cioè tu non sei ancora andato qua No di qua non sono andato Vediamo se qua ce n'è uno Vai scusa No è colpa mia So Facciamo così Quello che volevo fare io Ok 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 Non ci sono i shulker No zero No sono caduto Quanti cuori hai? Mezzo Come mezzo Mezzo Davvero? Sì Le uccisi tutti gli shulker qua È pazzesco No ma l'aspettare di averli uccisi tutti Sai? Forse là sotto Ok andiamo qua sotto Sì sì le uccisi tutti frate Tutti tutti li uccisi Tu quanti shulker box hai? Una Shulker shell una Eh vabbè niente Fai niente Torniamo a casa Torniamo a casa? Eh sì dobbiamo andare nel Nel coso Dobbiamo andare bomber Sì Occhio Ho un cuore Hai un cuore? Due cuori K Non ho mai Sai che non muoio Io non muoio Non sono mai morto forse Nella mia serie Venga da aiutarti A parte per delle cazzate No sono già recuperato Tranquillo Cominciamo a tornare a casa Ok Adesso devo solo stare attento Perché questo mi può Potenzialmente buttare giù Mi può potenzialmente Buttare giù Occhio Marcia Ce l'hai dietro E ora non ce l'ho più dietro Uè bomberissima allora Grandissimo Grande bomber Fega 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 Mamma mia che bestia Allora adesso possiamo tornare a casa Andiamo a fare il bug del nether Che tanto ci servirà per una cosa molto importante E dato che c'è il buon Marco Che ci vuole aiutare Possiamo andare benissimo Esatto Comunque prima volevo un attimo Il mio ripeto nel discorso del video uncut Molti non so Credo anche il buon Marco Glielo scrivono Che è la vanilla La preferite un pochino meno tagliata Il fatto che io e Marco Abbiamo uno stile di editing molto simile Esatto E tipo se facciamo Te respiriamo Li tagliamo se cose E tipo a noi piace come stile Fateci sapere sotto nei commenti Se preferite senza O non lo so Ditecelo un pochino Perché a noi Dipende anche dal stile dei video Quali serie Infatti tipo la pixel world Credo che sia una serie Va bene Lasciamo stare Lasciamo stare Che bello che c'è il coso sotto Quando ti sei tippato Vado Torno Ciao Allora Vado Torno Ciao Sembra tipo una canzone E no Entro sbacco esco Ciao Sì quella Allora dobbiamo tornare nel buco del land Qua vieni qua Seguimi 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 E' un creeper Oddio Un enderman di merda Ok dove sei? Guardami Non ti vedo Dove sei Ti vedo io Ti vedevo io Tu vedi il mio nome Vedi? Non lo vedo più Ah io vedo la stile Io so dove c'era Dove siamo spawnati prima No Dove è nel centro dove c'era l'enderman Che poi è morto Ah ok Bisogna andare al centro Ok ok E non lo sapevo Mi piaci tu Ah là Ok Ciao Ciao core Ah si sono spawnato qua Io vabbè perché avevo il punto qua Allora bomber possiamo ritornare nel nether Tu dove sei Aspetta Mi è uscita la scritta di minecraft Che ho finito Si è Fai esc Ok Ah ok bomba Dove sei spawnato? Dove sei spawnato? Dove c'è un Oddio Eh raga lui purtroppo c'ha il tipati pure C'ha il punto di spawn bugato Tipati pure E possiamo andare nel nether Yes Ciao 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 core Ciao ciao Allora facciamo così Prendiamo ste netherworld qui Li facciamo ricrescio Dato che io le avevo finite Qua non ce le ho messe Ok Facciamo così E facciamo così Boom Ciao Sei nel nether già? Yes Sei già nel nether Nether Allora adesso È un po' più complicata la cosa Perché ti dico questo? Perché noi adesso ci facciamo Un po' Di scale Facciamo tipo Possiamo farlo da questa parte Le mie scale bellissime Però dobbiamo fare le altre Non quelle che pensi te Dobbiamo fare le nether Ok Ah ok Ok Ne ho esattamente 36 Non so se bastano 36 Sai? Ne ho 48 E bomber io non so che bug sia Quindi Bisogna andare fino sopra adesso Ok Adesso dobbiamo andare Sperando di non beccare la lava Qualora beccassimo la lava È un casino È un bel problema È decisamente un bel problema Quindi saliamo Di solito si fa così Così Ti faccio vedere Tu scavi Sali Ok E poi vai un pochino più avanti Guarda vado avanti di uno Tac E poi torno su Perché se becco la lava almeno A parte che col piccone che ho Posso salvarmi tranquillamente Scavando verso il sotto Esatto Ok Saliamo verso l'alto Dopo dobbiamo fare tipo anche Una sorta di ascensore Che ci porti qua sopra Abbiamo un sacco di cose da fare Ancora nella nether Davvero tantissime Questa cosa qui Mi rende un attimino felice Stiamo a livello 93 Dovrebbe essere tipo al 100 qualcosa Non mi ricordo se qual è l'ultimo livello Adesso vado a cercare Sulla wiki Così almeno Non facciamo errori di sorta Ok O fail Sì più caldo Se becchiamo un fail Rischiamo Rischiamo tantissimo Allora ragazzi È venuto a fare un piccolo taglio tattico Perché ci eravamo Dimentichate una cosa fondamentale Perché dopo aver Rotto Il Ciao Pigman Dopo essere andati sopra Comunque Dovevamo comunque rompere il sopra E che cosa ci serve per rompere il sopra Ci servirà un pistone Un po' di redstone E qualche repeater Che io dovrei già avere Quindi in teoria basta che cerco nelle mie varie quest E troverò tutto E troverò tutto Allora gli pistoni ce l'ho C'ho gli sticky ma vanno bene lo stesso La redstone ce l'ho E i repeater ce l'ho da qualche parte giù A livello di tutto Abbiamo tutto Abbiamo tutto è brutto Però abbiamo anche la torcia di redstone Abbiamo Un pistone Portiamone due per necessità Abbiamo Anche I repeater Quindi prendiamo anche i repeater E ora possiamo fare una cosa tattica A parte che qui abbiamo i blocchi del lendo Da qualche parte Tipo Qua Sotto Dov'è che erano Li piazziamo intanto Sono sicuro che c'erano Vabbè li mettiamo qua Ta 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 Ok adesso dobbiamo andare per il dragon egg Perché il dragon egg fa parte di questo bug Il bug ragazzi me lo ha fatto vedere il buon tech for play Quindi nel caso passate dal canale di tech E basta Passateci e basta Non so cosa dirvi In teoria Allora spaccando questo Lui dovrebbe rompersi No non si rompe Allora questo è con silk touch No con silk touch è questo qua Quindi spacchiamo questo Noi basta che facciamo così Con un piccone Lo mettiamo Con un pistone Scusa lo facciamo così Andiamo a prendere una torcia di redstone Lo apriamo Ed ecco qui ragazzi Abbiamo il nostro dragon egg Riprendiamoci tutta la nostra roba E andiamo dal buon Marco Che è nel nether Ad aspettarci Allora buon Marco Qui abbiamo le scale Come si fa ragazzi il bug Dobbiamo mettere un enderpearl Ci fa salire qua sopra Guardate Boom Ok siamo sopra Siamo sopra Marco Dovrebbe essere questo il blocco Quindi Siccome vogliamo far rompere questo blocco qui Ci serve un pistone messo da questa parte Acceso quindi ci serve un blocco qua dietro Quindi messo in questa maniera La nostra torcia di redstone Che la troviamo qui Facciamo una cosa del genere Ci mettiamo il nostro dragon egg sopra Quindi facciamo una cosa di No ho fatto la cazzata Mi sono portato il piccolo di scorta Allora aspetta Ho già degli stick Quindi possiamo farci un'altra cosa Ogni tanto capita di sbagliare Sto sbagliando continuamente Così Ok riprendiamoci il nostro coso E basta che lo piazziamo qua sopra Perfetto Perfetto Adesso l'unica cosa che ci tocca fare È mettere in distanza tiny Non so se funziona sui server ragazzi Quindi purtroppo Questa cosa qui ci darà fastidio Marco tu quando te lo dico Devi uscire Per uscire da cosa Dal server ovviamente Perché se no non funzionerà questo bug Ok Ok in teoria Noi basta che facciamo una cosa del genere E mettiamo un po' di Di ripitere in giro Mettiamo un po' di ripitere in giro Quando non si vedrà più niente Sai che 3 non so se bastano 3 non so se bastano Vediamo Questo lo carica già Vai Ok così non lo carica già più Però non va fino in fondo Quindi mettiamo un repeater qui E un repeater lo mettiamo Aspetta un repeater lo mettiamo Qua E l'ho fatto Togliamo Vediamo un po' se è andato il bug No non è andato Perché non l'ha tolto Eh eh raga non l'ha tolto Mi sa che nei server non funziona Quindi dovrò rimettere la vanilla In a posto Quindi ragazzuoli ho controllato È giusto quello che ho fatto Quindi niente ragazzi Lo rifarò in survival Credo dovrebbe andare Perché il tech Buon tech mi ha detto che funzionava E niente noi ci vediamo in prossimo episodio Se avete qualcuno dato a lasciar trovare In commento E se non è stato così iscrivetevi Ciao a tutti Bella Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti